ragazzi dobbiamo muovere se voluto scappa io scappo pensate di voi eh caprone vedi c'è con noi siamo dei dottori formidabili anzi no teniamo una debolissima pistola allontanati oh oh è imbattare no non è imbattare forse girando un G4 la balanza attiva si è bloccato forse è morto l'abbiamo suicidato davvero siamo dei campioni ci prenderanno l'ammazza guardate moriremmo cosa fatti sotto sai il coraggio non funziona non funziona è un'altra pistola ora mi mangio questo visto che sto siamo già salvato la vita inizia andiamo emiliano non vedo l'ora di andare uh c'è anche un'arma qua la posso prendere io si 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 ma dovi un secolo perché da capo un attimo se no non la prendi anzi si la prendo la sorta ok perché c'è un'arma per te nei dottori l'ho detto stai fermo ragazzi ho citato l'oscip l'SCP 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 sembra una fissa la voglio dire spaccata la mano l'Emanue è sempre sì l'escemo l'angolo te la curro subito oh non è davvero guarita beh non è proprio bene ma vabbè dopo due minuti mi torna a mammare penso vabbè però questa banda ti dona è un colmo ma quanti cavolo di cadaveri ci sono due ma va bene io mi via schi ah 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 questo schi oh schemi di kai net ma ma questo qua fa paura ah uno scemo addio ti dico perché ho gli occhi ai datoli perché Perché ora tu switcherai con una cosa Conosci questa siringa? La siringa dell'acido Ma io non ho mai fatto niente Guardate, guardate, è un po' troppo inutile Vabbè, ma saluta una mia siringa Assaggia questa, si chiama siringa virusata La mia preferita Che mi fai russare? Non so te, fai paura, ma sarà che semo? Dai, aiuto, cammino io Ti avanti questo E la pistola? Si, si, ma la piglio Oh mio Dio Non volevo fare così, però Lei se ne vada via Ma che lo sto curando? Si, ma così non si muove Mi sento più debole Non ci... Non ci credo Ragazzi, io ho un potere E sai qualsiasi non sai che? No Che io Sono Wompang E che vuol dire, scusa? Ah, e se non ti è passato? E adesso mi ha parlato di un tocco di grazia Pigliastosi qua E a me quando caspite vi curate Eh? Li aiuto io Ora però ti manca solo una cosa Uno Stavamo Stavano da stagare finita Due Eccoci qua Ragazzi, spero che il video vi sappia Non dovete sapere se Se volete uno nuovo Noi ci rivediamo Comprate il video Ciao E iscrivetevi al canale Perché Emanuele ha appena fatto la nuova intro Ciao Ragazzi, spero Ma